Hello guys from Maestro Vittorio Coppelli, today I'm going to do something very different like I say I will post different recipe and then different videos today I'm going to do something very different ragazzi oggi facciamo qualcosa di differente I'm going to show you how to cook this beautiful piece of meat let's go see how to make it let's go see how to make this piece of steak cooking a wood oven let's go come cuocere la carne nel forno a legna so 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 Grazie a tutti. 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 Here you go and you can cook a big steak. Let's go see how it is. Anche in un po' da legno si può cuocere una bella bistecca. Now we let it rest for about five minutes. La facciamo riposare per 5 minuti che si riassetta un attimo e poi la possiamo tagliare. La facciamo un po' di un po' di un po' di un po' di un po' and we'll finish it with a little bit of salt. Let's go. Grazie a tutti.